E così entriamo subito nel vivo della serata con lo spettacolo teatrale questa serata organizzata dall'Associazione Araba Fenice il cui presidente è Ino Mangiaracina associazione che gestisce il premio delle eccellenze e il sito di informazione Castelvetrano News questo spettacolo è scritto e diretto da Elio Indelicato in due atti che in realtà si chiama Lucatechismo però per questa sera l'abbiamo voluto rieditare con il titolo La madre e la figlia proprio per inserirlo in questo contesto di femminilità di donne siciliane che veramente sono la chiave di lettura e la chiave di svolta delle situazioni tragicomiche che molte volte accadono e quindi adesso leggiamo brevemente rispetto a questo spettacolo una nota scritta dal professore Francesco Saverio Calcara che così ha scritto di questa opera teatrale mai come oggigiorno nel mondo dominato dai media c'è bisogno di teatro uno spazio in cui non c'è nulla tra la fisicità dell'attore e quella degli spettatori che assistono a quel rito collettivo in una realtà in cui sempre di più ci si confronta con gli schermi e per di più in solitudine il teatro e quello in vernacolo in particolare può costituire l'elemento vincente per riaffirmare il bisogno di identità e di autenticità sì, il rito del teatro un rito che è un gioco può essere visto come un bisogno primario che tuttavia non deve mai essere meccanica e ripetizione la cultura deve diventare sistema è una necessità in un mondo povero di bellezza e pieno di estetica superficiale la richiesta di modelli culturali è sempre più urgente e va indirizzata proprio ai più giovani che ad onta di quel che si creda rivendicano regole anche impositive e vanno educati a quella cultura della memoria che li liberi dal gioco delle nullità e delle omologazioni in cui spesso sono invischiati credo che la Sicilia abbia ancora valenti autori che interpretano nelle forme a loro congeniali la materia fatta della stessa sostanza dei sogni e fra questi senza dubbio Elio Indelicato con questa sua opera utilizza bene quella lingua siciliana che rappresenta e custodisce le origini le tradizioni, gli usi e i costumi di un territorio che si riconosce in essa e che viene presentata attraverso la scena una lingua che purtroppo spessa viene considerata come elemento di una sottocultura che tenda a non essere più appresa e parlata dalle giovani generazioni laddove essa al contrario è stata strumento di altissima creazione artistica in un crescendo di situazioni paradossali, comiche ma pregne al contempo di spunti di riflessione si dipana l'immagine di una Sicilia lontana ma non oleografica o convenzionale nella quale comunque alla fine prevale il buonsenso è il principio di umanità al di là del sorriso dunque una bella lezione di vita grazie per questa bella recensione grazie a tutti voi per avere pazientemente ascoltato tutto quanto e adesso ci godiamo lo spettacolo con questo bello spettacolo teatrale grazie grazie dimmi quando tu verrai dimmi quando, 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 quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai ogni istante attenderai fino a quando, 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 quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me se vuoi dirmi di sì se vuoi dirmi di sì devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te dimmi quando tu verrai dimmi quando, quando, quando e baciando mi dirai non ci lasceremo mai non ci lasceremo mai era il rosso con i nastri gialli e blu che erano la gioia e la delizia della vita mia è volato via su, su, su tutti in cielo vanno a finire i palloncini tutti dai bambini buoni e tutti dai bambini belli mh? butteggia le tassele, butteggia! ma! quanto fa a 7 peccie? ma! quanto fa a 7 peccie? ma! quanto fa a 7 peccie? c'è volito quanto fa a 7 peccie? perciò non sa quanto fa a 7 peccie? quanto fa a 7 peccie? 21 lo vediste chi lo sa quanto fa a 7 peccie? Maria che è tardo su, su le 12 e mezza io ancora non ho preparato niente al momento viene il tuo padre e di mangiare ancora un senno di palla che ho tosto su se del gioco che ha metto la tavola bello? ma! 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 dove è che scopriò l'America? il mio padre è un po' di palla ma! è un po' di palla e il mio padre è un po' di palla la stà cucina a zammateare e tua sorella sempre fuori allo catechismo e tu con favore che mette le cose in talo mezzo e piracchiare in terra si si vabbè mamma non ne lasciò una voglia a caccia ogni anno già vanno a cacciare niente che sempre danno comine avvi ci bote ci bote che rompe le visi alla signora Pacicoli e io ogni volta caccio botte di mille lire per giustare i cili statti d'intra che sebbene tuo padre non ti trova se la piglia con mia e io mangio e la colaponte sparaggiamo se la scuola mi può mancare bruno perchè non te ne vai a cacciare anziché fare lo su casimmo l'acciarimento se la pigli sempre con mia e a me sono un giudicidente che sta sempre fuori tua sorella sa va a fare la cresima avevi la pagina già pronta e non si può rimanare più ma poi da picciutte dove sta sempre dintra casa e chiesa anzi casa e catechismo io la ciavota la vitti con un picciotto non ti ha lasciata sarà cacchio ragazzo che sa va a fare la cresima sarà un amice occasionale affettuosi affettuosi ci viste chi ci acciappava la mano per salutarla mi ma l'ho un saluto fu di ragazza fino a dare la chiesa ma c'è paura che biriste male vitti vitti eeeh vieni qua ancora vieni qua la voce vieni qua e sentiamo la madre che biriste ho vinto anche un ente che sto solo ora appena venne da sorangerina ne facciamo le punta eeeh un saccio un ente che ti pare che sogno infame e cacettone vieni qua e qui era lupiciotto ah seeeh un lupiciotto manco di sgriscio tu fossi buono cattosoro la isse a lassare e poi la isse a pigliare del resto si so frate e l'ufra tiranne deve proteggere la soro ma bichitta mi viene a piglia ma chi c'è già tu sei l'umasculotto anzi facciate un gonzio facciate un gonzio vabbè vabbè ma puoi mandare la cionna ah vabbè posso aggiungere la cionna ah ah vieni che andora telefonalo papà e dici che allo cantere arriva lo materiale l'hanno a scaricare e ritarda un po' meno male va ancora non aveva preparato niente ora mi metto a mandare questa broccola ma vieni che broccola vieni che voglio salvare l'occiunto ancora c'è vieni 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 stasso che è un disgraziato che non c'è non c'è meno male va ancora non aveva preparato niente a che di unico però lo ho giunto e ce lo lascio che saccio che ci piace assai assai non saccio come fare sta broccola ora vediamo o faccio la broccola bella fritta con la modichetta atturrata di sopra oppure faccio broccola affucata ora vediamo andandolo a un ciao mamma ciao mamma e tu ora sta venendo a tuo frate lo vedeste che ti vien a cercare no non l'ho vinta può essere che ne scanciamo ma chi ha la moggi mi pare che ti vio un poco pincitosa che c'è no niente niente lo catechismo a che punto è ce la spuntiamo per marzo ma tu non è stato nella sarta che mi avancimare la vesta ma chi ha la moggi mi pare che ti vio un poco abbattuta ma chi c'è qualche ragazzo che ti fa la corte mi raccomando che sia di buona famiglia e serio e soprattutto chi bene appalla cutto paggi picchiviri cali cristiani ne aggi unilama a fare i parlari e anzi sparlare tu mi potessi dire ma picchi mi sta facendo sto discorso e picchi mi sta facendo sto discorso ho saputo chi c'è cacchi picciotto che ti feria un poco attorno e lo metto vedi di magi e chi lo avverti da mettiti in guardia picchi con le tempe che corrono vedi che non c'è di fidare se chiude nudo e tu si picciopterra anche se hai 25 anni e qualcuno potesse dire che si scherteranne mamà io me la speruglio abbastanza bene e non hai bisogno di sentire tutte ste discorse ah sì e allora sentiamo che cos'è c'è con questa faccia piatosa ti senti male ti fa male lo stomaco ti fa male la testa no cose passeggere ma c'è paura ma c'è paura che ti vinnero le cose che cose le cose va gli ospiti no niente buon troppo niente stiamo attento Angelina stiamo attento che insomma addio succedesse lo filemunno se tu mamà non fu un corpo a me Angelina che cominaste non mi diri chi per caso sì mamà ma ti ripeto non vi c'è posta ah consumata sogno chicca la vita disgraziata e ne che la facei lo catechismo ma mi hai potuto stesanorata fangare lo nome della tua famiglia ragione le carne a mozzicona mi mangiassi e cucciolatona sta notizia tua parte cucciolatona chi non ne ammazza a tutti e due ne ammazza a tutti e due ma lo capisci che cominaste lo capisci ah chianci 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 perché comina lo danno e poi chianci ecco fu sto disgraziato che fu del meglio prima che mi si imputate legamente fu 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 non te lo posso dire non te lo posso dire ecco me la dire me la dire che disgrazia quale sconquassamento di serenità familiare me la dire perché ca ha scopertato i bambini Luca Luce a sua parte che tipo è chi è capace di come andare in una sannaria e le prime due vittime sei muniace tu prima tu e poi o prima e poi tu hai scelta di topaggi fu fu oh te lo posso dire anche perché ti ripeto come fu culpa me no la madre no la madre la me la culpa è che t'abbia fiducia e tu ne hai approfittato glielo tenne a cosciugliare la destra e la sinistra stesanorata hai infannato il nome di tuo padre anzi lo concimaste completamente come fuori prima che ti scelpo tu ti sei capito ti sei capito Gio 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 questo Gio Gio qua è Gio 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 Giovanni ma sceluccia chi è che aveva l'850 bianca lo muratore il mamma mamma non c'è dire niente al papà lo sento non c'è dire niente anzi diremo come meglio potremmo sistemare le cose capito non c'è dire niente Giovanni hai buttato fango sul nome di mia figlia o la sposi o ti sotterro ma proprio questo scanzo fatica mi ha capitato ma lo capisci in quale situazione ti mettiste e mi mettiste e io che avevo grandi speranze per Dio che ti veniva già serena la chiesa con un bel abito bianco longo che ti scecava nella stola la chiesa chi è una diciore tutti gli imitati la musica lo parrino e un bel marito che ti avesse accompagnato per tutto lo resto delle tue anni e invece no ca coppea lascia che te lo dica figlia mia anche se lo cari mi sazi a diretilo se no nella ma che c'è dice a tua figlia che ci succede che sei il luogo più pulito che potresti usare in questo momento ma sentiamo e tu che ne dici di questo fatto non ne vuole sapere niente dice che la cosa non ci interessa che quello papà non ci vuole parlare anche perché serve zunnave e poi ora non si vuole maritare bel più figlio di boom buon amaci prima cumine il concepimento e poi si tirano il re ora no mai maria ca bisogna fare tutte le regole segniati o non volemo fare parlare la gente prima organizziamo una bella fuitina all'antica e poi il matrimonio preparatore ma vedi che io tutto questo discorso ce l'hai fatto ma ti cacciate e ti dà ce ne esce io avevo ogni giorno con il mio occhio e l'ultima volta che lo vitte mi disse che vi apporto per cercare servizio e che poi dice se ne avessi parlato ecco com'è questo signorino è mai discorrere ora perché se lo sapete parte lo vanno in goccia e finisce tinta tinta finisce tinta comunque io lo voglio e se ci aspettate solo la morte ti può aspettare comunque io a tuo padre non ci dico niente perché lo sa come va a finire no 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 non ci dico niente no 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 mamma tu mi aiutare mi aiutare aiutami e ti fa sapere anche tutte le cose si sistemano per il meglio perciò dal momento che tutto si sistemerà per il meglio smirugliatele a tu appena viene tuo padre ci comunica se rompe la notizia si fa bene in un bel corpo di sangue e non se ne fa lecchio no 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 e allora ma lo sa che ti dico che mi dice lo sa che ti dico chiamiamola la matrice e abartisci mai mai e poi la chiesa un po' e poi che te lo insegna lo catechismo te lo insegnaro te lo insegna lo catechismo lo catechismo ce lo insegna amaro eh bella un po' 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 mamma senti mamma mi venne una pensata lo sa c'è il baronello Giovanni Spoto chiave che mi venne appresso per fare se zitto con mia almeno qualche annato ma basta che ci facesse così che Ido fosse disposto di venne a chiedere la mano pure con il papà ma allora per quanto avesse fatto zitta con Ido un bel picciotto tutte le ricchezze chiave e poi tu la magia lo capisci che avesse diventato baronessa e di nulla tenente diventiamo tenente è vero senti se veramente il baronetto fosse disposto a venne a parlare con il papà tu a due mesi massimo fosse maritato e magari magari così lo papà fosse poco poco più contento chissà è l'unica strada che spunta perché vede che tutti i lati sono orvi la madre io ti posso aiutare dicendoci al papà con i modi dovuti lo fatto e dicendoci puro che lo baronetto che fice l'errore è disposto a venne a separare va bene la madre io con chi sono il mio marito semmai io ci posso fare se da per fare un giorno la sera a Giovanni perché io o lupuzzo o monaca se ci avesse pensato prima di stare andando lupuzzo a fare di monaca avesse stato pure meglio avesse stato avesse stato pure meglio avesse stato comunque dato che chi è se ne e non vuole sapere niente dato che lo baronetto non lo va ma la mangia ma lo sa che ti dico speruglia te la tu chi è non voglio sapere più niente 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 io sono carletto la faccio nel letto ah tu casi e io vai circa una tia ma di tu ne peggiaste la sola te la sono e te la sono e te la scegata grazie vabbè a me non mi interessa mamma mamma mi la dare la sunna mamma a cavolo mi parlare di sunna chi è la stella è chiamata a mille dai è chiamata la stella a mille sempre arraggiata perciottimene lo sa con contraste angelina a con contraste al signor baronetto giovane che appena lo sa che fischi mi viste di lontano ma vado a riferire a sua sorella angelina basta un suo senno che sono a sua completa disposizione chissime diste vabbè salutami lo sente ma lo vedi che i picciotti educati li galantomini si vedono a tre miglia di distanza chissi sono le partite che non si fanno scappare tua sorella lello sta pigiando in seria considerazione che si potesse fare città con lo baronetto oltretutto i picciotti si vanno e l'altro giorno che tu che piriste con tua sora angelina vedi chi era lo baronetto giovanni spoto che pari che aveva intenzioni serie nei confronti di tua sorella io pintando un nevista nudo e si vittà cacchiruno un me pare sì due forse lo scanciaste perché lo viste di spadre no per la verità lo vetti rimpegna e un mi passi l'iso ma poi a mia che mi interessa lo vuole o non lo vuole se lo piglia non se lo piglia contenta l'iso contenti tutti leluccio cerca di non essere sconveniente che poi ti può venire pure cugnato e non è giusto che tu la pigli questo tono vabbè forse me lo piglio però o ne lo voglio se non lo perché te lo piglia sente cacchiracionna mattinne però basta un quarto d'ora vedi che essere cà tu capiste un quarto d'ora un quarto d'ora un quarto d'ora va bene mamma un quarto d'ora mamma angeli babbacciamo le mani angeli è un po' solito angeli ma sente una cosa la magia finna mano fatti ci zitta fallo venire vengono di scordacchiglio diremo giustamente come potremo fare comunque ho io conto l'ho fatto a tuo padre dicendoci che fu il baronello il quale è disposto a venire a parlare con io e a domenica massimo ma le tardi oggi dico la verità e te la spero di tu mamma ma tu vero pensi che mi possa affezionare a uno con l'upaggio di mio figlio ? bello padre che la santina ci ma i figli se ne va questo è abbandono di tetto coniugale meno male che tu un tetto ce l'ha ma perché che siamo maritati che sta parlando di abbandono di tetto coniugale a maggior ragione che tu non vivi che ho bisogno i due sei un picciotto educato non se ne vissi dovuto dire questo è troppo sbindato e te ne ha dato la prova ma allora che faccio mamma magari non so ci telefono al barunello e ci dico che forse non sono insensibile che magari mi posso far fidanzata con lui ora si la magia che bella mia figlia ma così bisogna fare va bene come dici tu mamma la magia come ti sente ma ma ti hai un po' di rovescio e di sputarizzo non ti preoccupare la magia che anche questo scoglio si supererà tu devi stare calma che al resto ci penso io a tua pace in fondo in fondo e lo sa ci pigliare e tu è impulsivo come la maggior parte dell'uomini ma poi si calma e diventa un pezzo di pane certo che sta vota la come nasta rossa però e poi tu lo sa la pace quanto ferrucia tavia comunque tu non dire niente a nudo manco a tua parrina lo capiste manca a me parrina perciò ti disse parrina prima vedremo come si mettono le cose e poi a fidanzamento fatto facevo le comunicazione e le confette le confette di matrimonio ma chi c'entra le confette di fidanzamento ma chi non sono le stesse ma chi c'entra e una picciutteta picciò anche se parisi che grande kiddi di fidanzamento sono verdi e kiddi di matrimonio sono bianchi non capisci niente picciò niente niente preciso capisci mai niente è a capire questa broccola si è stacca tu sei una malafemmina danno nei fasciste tu puoi esagerata solo perché una volta rompivi una virata sta facendo un macello anzi sebbene faccia la vela che voleva aggiustare lo faro della macchina non ci darei conto è seguita luce ma picchi che ci subiste lo faro della macchina e ma picchi la colpa la me la mia è la colpa io che veniva il senzionico e io che ci lo portava a prendere il senso vietato io che posso sapere che spuntano le macchine non è che non andano spuntare oi a sto a sto a sto lo viste lo viste che stava vedendo con un altro Giacomino un Giacomino è buono tu Angelina la magica va a curcati che ti sente male e se già comincia ora a sentirete male prima di fare te zitta ma fatele fattito pensa quando sei marita anzi piuttosto direi che ti salutava il signor Giovanni era un baronello che appena ci disse che tu lo mandava a salutare te e mi detti cento lire e tu accettaste e tu non dovevi accettare picca ancora un sitenente ebbe una mano ogni volta che lo vio lo saluto e poi se ne parla ma che ti pare che accettare subito ci disse ma sì ma no è che fare signor anni e che un primo momento mi ne voglia dare cinquanta lire appena ci disse signor anni te e me ne retti cento e che vi a fare che vi a fare appena accettare più forte se no si finisce meschino tu piori non mandare a salutare a nudo lo capiste lo capiste lo capiste sa cosa stai dicendo come va a riposa della magia telefona al baronello mi raccomando angelina cosa non 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 sempre due aiutami venne cala aiutami a apparecchiare la tavola quando levo tutta cosa che sto non si capisce niente ma che cosa fa come mi dici stai apparecchiare apparecchiare tu sempre lo babbio le cose ti vanno sempre verso giusto è vero anzi vedi che incontrava lo tuo maestro sì sì e mi dissi che la scuola non ne vuoi manca a broro e chi tu che peggio chi sversa l'altro picciotte quindi o ti metti la testa a partito o stavota ti ne va a cia a vagliare del resto ormai tra l'obbio con la fascista lo capiste ma capiste a fare fare ma fare faciste qualche cosa la verità è che sei un vile un caglione che non ce n'è non ce n'è lo capivi non ce n'è ti ne puoi dire tu ne va ti ne va a zappare ti ne va a cogliere fratta in campagna ti ne va a spiccare ti accattiamo quattro pecore e ti ne va a picurare tu ne ti ne va dire basta che ti leviti davanti l'occhio non ti viocchio lo capivi non ce n'è non ce n'è non ce n'è tu appare sta venendo con questo il mondo che giornata disgraziata stiamo ma non che giornata disgraziata avete stamattina che gli ecco lo sangue quando capitano le giornate fosse meglio che mi stesse dentro gancio del caro lo sangue per quattro soldi e tu galantomo ci sta la scuola stiorno lo maestro ti chiamà no no la verità chi unì con la scuola non ci ma domani ci va anzi fosse buono che ci tirasse la ricchia su tuo figlio perché mi risulta che la scuola non è poi tanto galantomo lo maestro si lamenta sempre che non vuole fare niente ah e tu ci a dare stare fuori con la scuola e come dare danno vero ora no non è vero e avanti che cacchia cosa di vero c'è ma stiorno si mangia o non si mangia ancora manco la tavola non hai fatto niente stiorno oggi mangiamo alleggio solo secondo alleggio solo secondo sì ma gli hanno fame che stai murendo a mangiare alleggio 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 stiorno alleggio alleggio ora vai piglio lo pollo che andalo forno e mangiamo solo seconda solo seconda ma piglia il suo pollo quando me sì sì aspetta e sperugliate che ci stai morendo di fame eh quando mai lo scuro a farlo vamoci dai la metto elata ah mette piglia il suo pollo piglia il suo pollo piglia il suo pollo sono sempre danno sempre danno a combinare giù giù è vero è vero è vero è vero è vero a studiare la scuola ma a far farmelo più le professore ogni volta mi mangiano la faccia mi mangiano è vero è vero amore guarda il suo pollo aspetta che piglio la bottiglia con l'acqua amore un po' di niente prima mangiamo e poi bevemo aiutite non puoi aspettare più io non lo so un po' sul spettacchio ecco mangi io non lo so perciò dimmi una cosa ma tua figlia Angelina tu non è eh tua figlia Angelina è curcata ti senti so male ha avuto vomito e giramento di testa è tutto male mi pare che siamo all'ospedale sa se ho capito a dire che ci voglio tutto il giorno ma perché mentre tu ci voglio io che faccio gli occhi ma io che faccio ti dico eh pezzo di scelerato e le cammise le mutande le quasette la casa la pulizia tu eh lo servizio lo fai tu viace mascoli venite fuori lo servizio che arresta le niente femmine quello fai se ti vuoi gli altri fanno buono le femministe le femministe farle fare a chi di che servizio di un giorno vogliono tu per quanto ne va fuori con le cartelle in mano e lo servizio come lo fai tu allora hai ragione che le femministe non vogliono fare niente eh ha torto e ave ragione come sarebbe a dire hai torto e hai ragione ha torto perché pensi che le femministe servizio di un giorno e ha ragione perché veramente stanno facendo troppo cacciare senza che ce n'è bisogno io questa parte dello pollo ne la voglio ma perché chi è malata ma è mai possibile che mi mi va a toccare sempre la parte dello colacchio colacchio pare fatta apposta sempre colacchio ma tu non lo colacchio l'elello va a sprucciare te e quanto è nato entro a queste brunie tecca pigliate questo voglio la coscia l'upezzo è troppo stoppaggioso appena te ne va sordato tutti questi fisimi che ha te le fanno passare fa camora a sprucciare fa lo vire o ne va agli occhi so che stomaco è una vergogna ma che topoliano 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 va bene qua lello si 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 ma che lo ha visto qua ma lecce avevamo ancora il tempo di mangiare in questa casa c'è qua qua l'accomodaste permesso oh si accomodi prego qua qua buongiorno si buongiorno buongiorno signora buongiorno 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 sono venuto per la lettura del contatore ma scusate chist' orario di lettura che stavamo mangiando e anche lei ha ragione però sape già chist'è la seconda volta che vengono poi fare il rettologio mi viene difficile oltretutto prima o poi sto contatore la mal leggere e scrivere ah certo alla scuola penso così ci va leggere e scrivere ma prego ma prego si accomodasse venisse con me che bello figlio grazie che figlio bello grazie signora ma che bello vero grazie ma come si chiama lei Pier Giorgio piacere franco aspetalere piacere signora buongiorno sentissi qua ma va a levare una curiosità se la levo eh ma lei vincasse alle Nelle ma chi fece a che concorso certo signora io fece il concorso lo vinsi e adesso sono qua che leggo i contatori è vero figlio è vero è merito della mamma signora veramente beata sommate comunque si accomodasse stavamo mangiando manco il caffè abbiamo pigliato ne pigliamo il caffè e poi si vira va signora grazie come se avesse accettato ho ancora parecchie letture da fare se ogni volta mi fermo a pigliare il caffè non mi spruglio più parecchie letture e cavalleggi della Bibbia signor Giamprugno come disse no Pier Giorgio ah signora Pier Giorgio no signora se questo è il lavoro per favore questo contatore ma prego accomodate ripigliamo un cucicetto di Sambuca e poi si vira la lettura si è comodo si è settare va bene lupiglio però dopo 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 a lettura ultimata ma per forza la man leggere eh certo la man leggere signora allora questo contatore per favore ditemi dove è che ma che ne ha già che ne ha già contatore alla casa aveva lo contatore non è non è non è non è non è non è questo contatore non è questo contatore non lo ricorda la casa signora Giamprugno vedete che mi ha già che è lo contatore che è lo contatore scraziato oh chi se avessero a mangiare le cani se avessero a mangiare le cani se avessero a mangiare scraziato che non ce l'è non ce l'è ma qua c'è qualche cosa che non va questo contatore è fermo e se finchissora ci damo la corda questo contatore è bloccato con la calamita cula calamita cula calamita e mi dispiace per lei signora Antonio Spitaleri che è responsabile sotto il profilo penale di questo fatto signore Sottone Orvo di Locchi mi deve credere non ne so niente io di questo fatto ah io nemmeno so solo che il contatore è fermo è mia ora mi dispiace ma bisogna fare la denuncia e Lello quanto volte ti hai detto che questa calamita non ce l'ha giocato quanto volte te l'hai detto e perciò non ho voluto a mettere la calamita disgraziato con la contatore a consumare me ma io ci ho con la calamita io ci ho con la calamita io ci ho ma ti ci ho che tu con la calamita chi l'ha giuiorno che io me l'abbia mucciato e tu me l'avete distanza vedere io non te la volevo dare e vabbè la calamita ce l'ha messo in gioco ah lo confessa si lo confessa si ma perché 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 per non farcela più trovare insomma per levare cilla una volta e per sempre signore Sottone stava tutto il giorno con questo pezzo di fare frontale ma mi credo io la credo però il contatore è fermo mi dispiace io devo continuare a scrivere la denuncia il mio tutto sto scarica canale facendo viaggio lei mi piace manco mi interessa acqua davanti e vendo da lei questo ragazzino è un poco troppo vivace signore vero e che vuole fare picciotto è picciotto vabbè ok ma che scrive è la denuncia io per il momento vado vi arriverà copia della denuncia a casa va bene ma proprio un mulito a accettare manco un cucicetto di Sambucola prego la promessa è un debito si accomodasse no no veramente veramente si assettasse si assettasse si assettasse si assettasse che bafferriano che sulle due meno cinque io lo so l'arrivo è chiuso andavo a fare mangiare mi hanno caldato i cristiani mi hanno fatto un figlio mangiare la mia porta sul rasore tu papà frunca per la sentenza c'è una colata l'anima è comoda è comoda è comoda non preoccupare non scrivo la magia versa su versa sul rasore su vedi a su un rasoretto bello questo digestivo dopo pranzo grazie io ho mangiato però io l'accetto lo stesso me la sta facendo pensare questa cosa mi sento si vive il signore si vive a noi è bella la vita e vivemo la salute della calamita io non bevo perché sono astemica astemica la signora astemica caro signore sattore la prego di volere scusare questo piccolo inconveniente chi vuole c'è un detto che dice chi non risica non rosa tutti oggigiorno cerchiamo di arrangiarci come meglio possiamo picchi la vita è fatta è fatta troppo cara e la paga una aumenta mai 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 lei per esempio un medicista che è contento dello suo stipendio come ne parlassi vivissi 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 è bello stocco bello la buonarma che è una ricetta della buonarma vivissi vivissi bello è giusto giusto la grandezza che oggi come diciamo ancora fare la spesa è diventato un problema vivissi vivissi ci piggiamo bello stocco bello vivissi una bella bottiglia vivissi 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 e oggi io la mia moglie scusate di chi sto parlando ce lo vengo ma bello vivissi si arriva alla quinnicina di lumisi che lo stipendio vola 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 vero vero vivissi bello bello e poi le tasse le camusie un sinippo chiù 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 cacca vivissi bello signor oh ma è bene è bene affungiare però è giù eh basta grazie basta se ci piace io se ci piace facevoccelo vivere ah beh beh io me ne faccio si se ne come no dico puoi stare un po' con la caccia grazie ci piace se lo bevesse tutto non ne parliamo più a posto a posto ecco guarda ci piace un po' picchiello si semplicitato proprio e allora lascio ora accompagna l'esattore fino alla porta mi raccomano questa calamita facciamola scomparire che in fondo siamo tutti i più chi meno da stavalle dell'acrime vero vero ragione sì arrivederci che bello figlio sempre figlio bene arrivederci a tutti grazie arrivederci non ne va di casa no e caccia non gabbinetto tutto il rosso viene pisciato arrivederci a tutti grazie arrivederci signore santo arrivederci 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 brava la persona veramente un bacio di famiglia sì però questa calamita levamola di occupare una volta e per sempre e che precece facciamo passare già poco di orna desesto più ore e più ora non è che di passare più ma io dico ma questa nazione italiana può gire avanti a così sistemoniare le prime di sderupare sono nuli ministri che la comandano che la sderupano sì ma noi facciamo picca per migliorare la situazione a noi non è facile dare la colpa al governo tanto n'altro che ci apprezzano comunque andò cangiamo discorso perché vedi che neanche avessimo a parlare di una cosa importante importante ma che succede questo? vediamo ma che succede? come lo paga ma di niente che il signore sia lodato oggi sempre sia lodato ma lo farò va pagato signor Antonio io come posso giustificare con l'assicurazione la romputa te lo farò adesso della mia giardinetta ma ossia che mi conta mia lei è uomo di chiesa cosa è chiesa anzi chiesa è catechismo ma che c'è la chiesa con la mobilia lei come diceva un grande prefessore confonde la mia specula con la cubaita caro amico e mio marito sentì a dire che la chiesa va via i correre anni quell'animi poverelli comuniati forse non ci siamo capiti ma so figli un lello con l'asciunna mi rubi tutto lo farò della giardinetta fratello ricordati che devi morire mio figlio non per giustificarlo pace la vela ma mi diceva che lei già sia senza unico con la macchina ma pace la vela parlaste con me parlaste con me ma lei la patente cucci la rete cucci la rete perciò minchia mi spunti in senso unico con la macchina ognuno di dio che tu gli piccoli e allora se io era la pere e mi spuntava in una piratentessa e mi fece un posto che mi succedia che mi succedia o le femmine a parrini i patenti non ce ne avessero a dare perché come non danno ma che ti dice è sconveniente ne compro tutto lo parrino la prossima volta pace la vela ci bisassi due volte prima di rincontro sento con la macchina che ci vuole fare pace la vela le picciotte d'oggi sono imprevedibili e anche un po' come la ducate ma scusate se ce lo dico si si avete ragione pace la vela avete ragione comunque quant'è il suo danno pace la vela settimila lire settimila lire forse tutta la macchina con tutta la tonaca vuole dire mamma dunaci 1500 lire e non ce ne parla a chi lei non ricordati del rapporto della professoressa di matematica di lunedì scorso 1300 lire quale il rapporto eh no niente 1700 lire ultimo prezzo prendere ho lasciato ah si è meglio lasciare tutta al diavolo e andarsene buonasera accetto con i pinni scarichi e battini lei lo dà me stagione no lei lo dà me ti disse dà me stagione ora no ti disse dà me stagione la più stagione ora si ora si e ora non la pericchio e no che stagione e allora approfittiamo di questo momento di pausa tra il primo e il secondo atto per ringraziare per le scene cosa che non avevamo fatto prima il mercatino franchising di Castelvetrano di via Gesileo Milano per la loro disponibilità e per il trucco Verusca Loppino io chiamerei adesso un attimo l'autore il regista di questo spettacolo teatrale Elio Indelicato Elio grazie grazie io vorrei un applauso forte per Giuseppe il presidente dell'associazione Palma Vite perché lei non si è presentata ma è giusto che la presentiamo bene io vedo molta gente vedo bella gente vedo anche l'onorevole Giovanni Lusciuto vedo tantissimi amici che sono venuti qua stasera a farci visita a trovarci per questa serata speciale dedicata alla sicilianità tra l'altro vedo lo vedo e lo intravedo un caro amico un personaggio un attore ha fatto tante fiction su Rai 1 su Canale 5 ha fatto film con Piff ha vinto il premio la sai l'ultima un personaggio grossissimo che io ho il piacere di presentare ecco perché tra il primo e il secondo atto sono qua sulle scene signore e signori Vega il grande Vega 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 subito Vega subito un applauso a Dario Vega l'avete visto sicuramente in tantissime Darius tanto grazie per essere venuto e ci vorrebbe se il signor Puleo ci accontenta un altro microfono Darius come stai? io sto bene sono felice di questa partecipazione anche se come pubblico a questa serata dedicata alla donna siciliana ho sempre sostenuto che la donna siciliana sia la donna più bella del mondo perché? perché soprattutto in un rapporto con l'uomo aveva sempre ragionito tu vuoi andare d'accordo con la tua donna due parole sole deve dire ragionia e tu camperai tranquillo per tutta la vita e mi viene in mente la storia di quella coppia che lui mischino non poteva dormire per tutta la notte si ferriava e si ferriava hanno letto e lei la moglie dice ma che cosa c'è? ma perché un po' può zonare ecco la donna c'è nessuno ti preoccupare o marito ci penso io si alza dal letto apre il balcone e chiama signor Pappalardo signor Pappalardo signor Pappalardo signor Pappalardo mi scherzi ma come chiama? io sono signor Pappalardo io la moglie di chi ci ha fatto i 5 mila euro no ci volevo dire che mio marito i 5 mila euro un ci può dare buonanotte e ritorna a letto ci sia il suo marito ora dorme tranquillo con chi tu un po' dormire la donna va bene a parte questo allora io volevo volevo lanciare questa idea ne avevamo parlato tempo fa con la mia amica Serena Navetta ne abbiamo parlato anche con un salvatore dell'area 14 di Benedetto perché non aprire una scuola di recitazione a Castelvetrano in siciliano in siciliano perché vedi ci sono tanti talenti nascosti non è che uno perché è famoso è bravo è un altro perché non è famoso non è bravo il discorso è che bisogna trovarsi spesse volte al momento giusto al posto giusto bisogna trovarsi soprattutto nelle località giuste io non ho mai sentito dire che uno di Roma un attore di Roma viene a Palermo per fare un provino ma è sempre il contrario a noi mancano le strutture a noi mancano le possibilità che hanno quelli che hanno quelli che si trovano a Roma che si trovano a Milano poi hai fatto parte dell'oscenegia commissario Montalbano sia della prima serie che della seconda giovane Montalbano ecco io vorrei vorrei dare anche una speranza a questi ragazzi lo sei fatto ricordiamo il mio primo contratto con la RAI l'ho fatto a 48 anni ma è da piccolissimo io che amo recitare da piccolissimo che recito cominciai alla scuola elementare allora le ultime fissione che ho fatto questo è il mio paese con Violante e Michele Placido su RAI 1 come attore principale la protagonista era Violante Placido faceva l'assessore no io facevo il responsabile del comune il ragioniere capo del comune dove lottavamo contro la mafia contro la mala politica in questo paese in Puglia abbiamo registrato quindi non ero nemmeno un siciliano ero un pugliese e poi per Canale 5 ho finito di fare la Romanzo Siciliano con Bruschetta con il mio compare Nini Bruschetta poi ho fatto Catturandi sempre per RAI 1 un applauso ce lo possiamo fare ecco no 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 un personaggio qua di spessore al di là della pancia c'è fresco non vorrei che ci muovete l'aria e ne venevo che botta il raffreddore e poi adesso entrerò nella seconda edizione del la mafia uccide solo d'estate da un'idea di Piff con Piff ho fatto a Erice ho girato in guerra per amore ho iniziato con un film importante che è andato in America agli Oscar i cento passi film dedicato a Piff e Impastato e poi come dicevi tu ho vinto la Sai L'Ultima ecco ma qual è stata l'ultima il problema della Sai L'Ultima sai qual è che tutte le persone mi riconoscevano per la strada ma nessuno si ricordava il mio nome ma dalla Barzelletta e quindi tutti si ricordavano la Barzelletta si ricordavano di avermi visto in televisione infatti tutti da lei con c'è che durante la televisione mamma ma che non è che durante la televisione una volta a Palermo una signora affacciata a Antofanessone in corso con la Tafimi appena è vinta di arrivare non so se voi sapete come la donna classica palermitana chiama a suo marito si mette la mucida fino a fine a capare un angioletto che ha rotto in cielo e chiamava suo marito bravissimo allora l'idea dobbiamo svilupparla speriamo di svilupparla abbiamo bisogno della tua associazione della sua associazione di tante associazioni soprattutto delle signore anziane giovani uomini donne apriremo una scuola di recitazione con annessa agenzia cinematografica perché molti non sanno come funziona il mondo del cinema quindi potremmo abbinare sia la scuola di recitazione sia l'agenzia cinematografica età basta che non sapere leggere e scrivere possiamo iniziare quindi da sei anni in poi fino a cento e passa ecco tutti possiamo essere dei piccoli plaudo io di solito ho visto sempre le commedie di plaudo seduto lì questa sera mi sento un piccolo plaudo con questa commedia quindi tutti possono scrivere tutti possono recitare l'hai scritta tu questa commedia l'hai trovata su internet la copiava l'ho scritta 30 anni fa 30 anni fa abbiamo inaugurato il teatro Selinos proprio con questa commedia poi c'è stata una delle attrici poi alla fine lo sveleremo che ha voluto che io rifacessi questa commedia qua abbiamo avuto la possibilità di farlo ringraziamo il direttore Enrico Caruso e tutti gli amici che si sono messi a disposizione bravi gli interpreti comunque gente sconosciuta ma con un talento innato le vuoi chiamare ragazze a che punto sono così se siamo pronti noi le salutiamo come le chiamereste tu? Picciotto come le chiamate? Picciotto pronto siamo? sì pronto sono vabbè ma adesso attacca allora grazie grazie a Dario Vega per questa bella per la sua performance e godetevi il secondo atto grazie grazie a Dario Vega dormi sempre appena bene di lavorare la prima cosa che fa si addormisci Antonio ma come può fare? io non dormo mai invece vedi che cosa? Antonio 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 c'è corpo di sangue di picchi non si può riposare 10 minuti in pace in questa casa Antura ti aveva detto prima di succedere tutto il rammacello che ti ha parlato di una cosa importante e questo l'havia caputo però non è caputo ancora di so che che mi ha parlato Franco senta Anto ma tu la tua figlia la vuoi bene ma Picchi forse che ti hai dato prova del contrario no e allora perché mi sta facendo questa domanda forse se tu non ci va bene no e perché ci voglio troppo bene che ti voglio parlare di sta cosa insomma di che cosa si tratta? Anto eh tua figlia si è antiso male e questo l'havia caputo pure e invece Anto non ha caputo proprio niente ma che bene a dire non ha caputo niente che sogno cretino tua figlia ha avuto vomito eh è giramento di testa Anto fosse buono che cominciasse a capirlo Anto ma chi ci resta a mangiare? ma si chiede tu lo dico sempre ti cociano ogni tanto un'anticchia di verdura che rifrisca tu sempre frittura fritto certo chi da picciotta sa passare te la mano tu fa finta di non capire caro marito ma tala che sorta di cosa mi dice che sua figlia sente su male che ha avuto nausea giri di testa giri che sono cucinetta a mangiare e mi ripeto ancora quando l'hai caputo ma ti pare che ha la testa di bronzo va eh tua figlia suo giramento di testa e di stomaco che ha avuto vieni che non è cosa normale fosse buono che tu cominciassi a capirlo veramente però oh patriarca di santa arcangelo ma tu stiorno mi vuoi fare nascere fuori senta una cosa domani va a parlo con lo specialista e ci facciamo fare una visita di controllo della testa fino alle peri no 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 facciamo della testa fino allo stomaco picchi le peri in questo discorso vieni che non ci trassero niente preciso e vabbè come dici tu della testa fino allo stomaco lo sai che cosa faccio domani vado a parlare con lo dottore della cassa mutua e ci dico che tua figlia ha avuto nausea e giri di testa e chi ne lo sa so che che mi dice mi dice ci lascio due cucchiaini di bicarbonato e la la stessa di uno pugnano che esso mi dice eh andò eh io da dire una cosa arre arre ma tu andò ti arrabbi no non mi arrabbi ma è vero che non ti arrabbi andò ah franco non mi arrabbi ma si già ti sta arrabbiando senza che se l'ho fatto io andò eh ti arrabbi andò no non mi arrabbi e giuramillo sopra l'armuzza di tua mangi no non mi arrabbi non c'è bisogno che giuro non mi arrabbi andò eh io ti bisogno comunicare una cosa andò eh ti comunico come c'è a dire questo che cosa mi comunico andò ti comunico che tua figlia è incinta ecco come ma quello lì come fu ma sei sicura ma hai cercato di farla no andò è la verità la verità disgraziata disgraziata ma la colpa la tua non lo sapia la colpa la tua che l'ha fatto il resto catechismo per fare questa cosa no come finisce così farla bene questa disanonata chiamala chiamala Angelina Angelina mi ricca lo fate che mi ha parlato Angelina perciò come l'accesso in tavata figlia a me allora è vero venite a caparla e mi ha detto che fu su signore ora ve lo ha dire voglio sapere che fu che fu brava brava madre e figlia brava veramente mi ha visto per dare la medaglia al disonore lavative vergognata per mi ha detto che fu no aiuto su come lo ha dire ma se la cosa ti fa non mi metta a fare che fu voglio sapere che fu fu giovanni ah giovanni giovanni ma è scalucina non è la facente dunque è un diplomato in disoccupazione ma è di pezzo di lei se va a perdere ma è un nome periccà periccà ma chi capiste chi capiste lo cuore si sta scattando chi capiste fu giovanni il baronello il quale è disposto a venire a parlare guptia e a domicilio massimo mare tarisilla e me lo potevi dire subito e tu che c'era bisogno di fare tutto questo stralà come ti senti gioia mia come sta così papà bene il capo non si vede a sé a sé a sé perciò lo baronello lo spoto ti vuole sposare non poti aspettare più apri tutta questa premuta ma comunque l'importante è che ora venga a parlare al più presto con tua pace a così nuaggia facendo questo macemonio e tu ti sistemi per sempre con grande piacere di tua pace e di tua magia e tu piora non comunicare niente a nessuno ma a mia mi venia di pensare una cosa ma Ancelina l'ho corretto tutto pronto l'ha ah perché sono da preoccupare ci mancherà che camisa di notte ma per il resto è bella equipaggiata del resto dal momento che ne ha teniamo a inserire nella nobiltà è giusto che quantomeno non cerchiamo di sfiorare troppo tu che ne pensi che tu dici è vero è giusto però è pure vero che ne ha date le nostre possibilità non è che potremmo fare un punto che è stato romasso tuo genero è persona intelligente e capirà il nostro sforzo peccato che sia poco balbuziente per il resto è una persona squisita ma poi quando c'è la muri il difetto sembra un pregio non è vero gioia mi si papà e senti la cosa ma tu gli vuoi veramente bene no come riuscire sì certo certo che capiste beh hai saputo scegliere però a ma fare presto intendo dire questo matrimonio giusto io penso che lui sarà d'accordo che in massimo due mesi di fidanzamento in casa e subito le no sì penso di sì bene bene piuttosto quann'è che è bene forse stasera da verso l'otto bene bene e allora senti Cangelina tu vacanciate sì vacanciate sì vacanciate chiedi una sesta in materia e va preparata la macchia all'estero mi vai a cancio sogno veramente contento sogno veramente contento mi dispiace solo che amo a fare tutte cose in fretta e fuori avessi stato meglio chissà c'è un fidanzamento un pochettino più a lungo anche perché come si dice le difette si virono con lo tempo però dal momento che ci fu di mezzo questo piccolo incidente è bene che le cose procedano speditamente anche i picchi andò dicemolo chiaramente ma le picciotte un po' diano aspettare ciò avete anni che si vanna la moccione la moccione e già li fate su sempre le prime a sapere le cose eh e le pace onza non è o se lo sanno fanno finta di non sapere niente non è così po' tu esagerato lo fatto è caro marito che la mamma con i figli aveva più confidenza e purtroppo sanno sempre le cose prima e consigliano anche soffrendo se vedono che le cose non vanno proprio verso il giusto papà oh sentiamo avessi bisogno di una cosa e tu quando mai un navire ha bisogno di una cosa o mi direi che poi ho accattato una cionna nuova no no papà ma tu ti arrabbi avessi bisogno di duemila lire duemila lire e per fare so la componente di famiglia rispettabile e seria devo pagare il mio debito quale debito ha fatto in poche parole chiunca va a pagare ha persi e fici duemila lire di debito e se buca ma comunque ci ho detto che dice sfortunato in gioco fortunato in amore senti Lellù io per la verità per la verità mi ricordo di un altro detto quando io alla scuola che la brevità venica la brevità è uno dei pregi maggiori degli oratori e ora io cutia voglio essere breve anzi brevissimo vattene fuori vattene fuori la casa mia e non ci mettere chi ho peo ma là che bello chiss io travaglio tutto l'orno per tirare avanti la carretta arriva chiss e spanne in maniera vergognosa fuori vattene fuori e non ci mettere chi ho peo perciò tu piccelino se ne va io che ha baccalato ne teniste a giocare manco lo saggio dove sei niente a giocare a baccalato a baccalato a baccalato perdi tu me la liri e ti pare una cosa normale ma a tuo padre a tuo padre non ci pensi che getta lo sangue tutto lo giorno sotto lo sole ah non ci pensi ma che ti pare che le sordi di tua pace ti coglia l'arvolo e chiedo che è peggio talia lo capi una faccia di sbattriccilla mura mura tec vieni qua vieni qua vieni qua qua ci sono dove la lire con mille lire ti va a pagare il suo debito di baccalato e con la gemilla passa di Don Vito lo pasticcere e ti fa dare una guanterina di dolci ci fa mettere qualche teto qualche muscardino e pure qualche savoiarda però c'è a dire a Don Vito che vanno a essere freschi e di giornata e come mai ste biscotta così e questa sera viene il barone Spoto a spiegare di un fianzamento che tu sono anzi fa presto allestete e ti viene a mettere le cose lunghe che pare uscire a cuacendo queste cose così ora si ma lo debito era di du mila lire al re ci torna chi se ti baciano e ti assovecchiano e se parla ancora dato che Tomate ti difende sempre quando parlo io ti levo pure chi se ma non pensare che la cosa finisce qua tu da domani te ne vieni a lavoro con me lavoro? quale lavoro? di domani tu te ne vieni con me a caricare a scaricare chi appa ma non è capista essere troppo pesante per il piccelino questo servizio pesante quanto basta il gruppo e capire che lavorare è duro e che solo attraverso il lavoro quotidiano lo sacrificio si può vivere onestamente perché le sorde hanno un significato in quanto scuttate attraverso il lavoro quotidiano e deve riflettere questo farabutto prima di spendere cinque lire perché devi pensare che il tuo padre che lavora pure per te vabbè domani ci vengo a questo schifo di scuola non ci vado più momentaneamente va a cattare il biscotto e poi ne riscorremo via baronello e mi disse che stasera c'è l'otto e le nove la ricoglie bene 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 benissimo e allora che fate vacancio io mi devo accangiare scelta così ti ha presentato papà scelta mi vacancio ma se sogno tanto emozionato poi mi ascoltate dire mi vacancio andò vacancio vacancio come a fare si contenta la madre ma quale contenta perciò se si raveva lo baronello venne a chiedere la tua mano venne a spiegare lo fidanzamento e non si contenta ma tu ce lo dici sto al papà che fuido che mi mi si incinta ma perché forse ne ha che abbiamo arrestato in maniera diversa no per carità però si penso che la maritaria mi sbota lo stomaco è poco da parlare la chiave che fa bene una cosa e poi mi dà madre non lo sopporto non lo sopporto ma suo padre e sua madre non è che parlano con sé iddo iddo come si dice nisci fuori a razza però ora che mi ricordo mi pare che si dice che quando lo baronello era piccolino si pigliava un grosso spavento si pigliava un grosso spavento e dice che si mise a chicchiare ma chicchiare suo padre e sua madre l'hanno portato un tale meglio specialista di tutta Italia e tutti ci hanno detto con un avvenente che si tratta di un fattore nervoso dice che bastasse che si pigliasse un altro scanto e ci bastassero tutte cose ma si aveva 38 anni lo schetto vecchio ma per favore non ci credo che da tutto questo tempo non si è preso un altro scanto non ci credo non ci credo comunque la magia che può fare cerca di affezionare ticce pensa che dovete formare una famiglia mentre ti scorda kiddo e tutto il tempo lo aggiusterà si e vissero felici e contenti chissimi lo auguro per te è finito a bene io per la verità voglio ancora Giovanni senti un ripidiamo chiuso discorso perché stavolta a tempurato va a finire se basta dopo oggi se fa così e basta un canziamo discorso perché a tempurato ti piglio basta no un capolo tavolo dove lo ammettere un capolo tavolo ecchi già mance un pertuso ci fice perciò non potevi aspettare più ah li argilavi tante che vergognosità un sacco conciano Angelina ad un baronetto Giovanni che ne sciate lo far bene tutto un rasato di fresco tutto appettinato che paria un bobito spinta e di lontano mi disse l'elluccio e poi non lo vetti più non lo vetti più cretino ti voleva dire tra poco che ora vengono e chi tu l'abbia caputo e allora più chi fa lo cretino sa so che avessero a dire le cristiane di tia ave tre anni tre anni che va sempre alla prima media ed è un delinguente finuto finuto ma se manco ci ha cominciato chi mi dice finuto senti antura davanti al tuo parco vieni che ti ha definire ma sta volta a buschi però a buschi a buschi a buschi sta attento vassetta di composto ma sempre discussioni ci sono in questa famiglia e tu la cattaste le dolce e ora si la cattaste un catturista comportato è buono che a fare conto veno lo baronetto l'hai capito oh si 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 e tu franca va a vestiti va a vedere della sistemata che pare una cinerosa che sto parlare ancora a misa speruggete e fosse anche ora senta Angeli io mi vai a cangio la madre tu fai una cosa metti la tovaglia ricamata la sistemi dopo la trovata a tuo padre buono 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 metti la tovaglia ricamata tu l'hai spolverata ma io mi vado una sistemata magari per essere poco poco più presentabile scusate finalmente lo sogno si avvera dopo trianni alla mucciuna alla mucciuna e cantonera cantonera ma io dico che c'era bisogno di arrivare fino a questo punto se ne avessi parlato in famiglia che noi avessi mostrato ben felici di fare questo fidanzamento ora capisci perché te ne volevi ira lo catechismo per fare te la cresima perché sapevi che senza cresima non te avessi potuto maredare brava mia figlia certo lo baronello mi pare un poco più timido ma si è rivelato più intraprendente di quanto io pensassi ora certo io come padre sogno un poco come si dice imbarazzato perché non so se fare finta di niente o trassere direttamente nello discorso non lo so no 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 papà tu non c'è a dire niente ma a fare sto favore perché io come dire un poco timido lì e se per caso si emoziona non parla più e se emoziona con le parole lo baronello però con le fatte non si emoziona ah 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 che io la sistemava così ora aspettiamo che veniva ah ah tu va lavate questa faccia va e mettete le capide avanti lavate la faccia per tenete le capide e poi vedo perché questo è un antigenico sogno ora no sei impresentabile avanti lavati e mettete pure le capose lunghe no 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 le capose lunghe no lo sentiste so che dici tesoro allestete e non te lo fai ripetere più ah e avete pensato già alla sistemazione eh a quale sistemazione intendo dire la casa non è già da abitare va no 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 ogni cosa a suo tempo e luogo senza premura meno male che tutti stanno maritando prima del tempo perché chi hai detto che me l'ha maritare come diciste no chi hai detto che capiste che me l'ha maritare senza sapere di una gira storia e poi ma che problema chiesto chiedo ha voglia di casa ma dimmi una cosa ma tomate che fine fischio e ma tu non lo sa com'è ma se sono quasi lotta un momento vieni chido mi decisi chido chido dica che si veste non lo sa com'è la mamà Franca Franca come finì e dimmi una cosa per quanto riguarda tutto il reno che aveva mi pare che aveva sotto qualcuno tutto il reno che aveva lo guardato per dopo c'aveva un feuro che bene lo corre ma che ha fatto ma l'ave mezzo ristrutturato e mezzo ma dopo potessi essere la residenza estiva certo c'aveva pure la piscina sì la piscina ma non ci creio ma ci creio la piscina e dimmi una cosa io avevo pure appartamenti nentre meno fino a Palermo Silvia Marqueta Marqueta come? Marqueta 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 in via Calatafime giusto anche senti una cosa ma il dogo ci sta il suo padre oppure il suo padre si è venuto a ferire il capo perché non è capito perché non è che sanno più seriamente ovunque perché è una via Carvalde no? tutta da tenuta antica certo bellissima a me il dogo mi piace nella via Carvalde ma dopo anche il dogo la vista del ristrutturare è bene? sì ma ora mettele morate non ti preoccupare poi ci pensiamo eccola quella mamma signora spitaledi quasi quasi non la riconoscevo più e certo abbirmi sempre come una cina lusa casa a casa abituata abbirmi sempre quando parlare una volta che mi vesto elegante non mi riconosce più pare un'altra cristiana ma no intendevo dire che sia elegante va e fosse giusto che ti ci vestissi un po' più più spesa così invece di stare tutto il giorno come una saccoacchietta ma ma che sono nel vestito che ti mettiste tre anni fa per il matrimonio di Giuseppina ora si chi so e come vai a essere vecchio non dà gli anni che sta la seconda volta che me lo metto può essere ma vecchio perciò tu mi vuoi dire che sono vestito e te l'hai messo su due volte ma non ci credo va a dire ma non so di scelerata tu non mi ha portato ma alle gite tu non mi ha portato ma alla festa si stai sempre dicendo come una saccoacchietta a travagliare tu non mi ha portato ma tua mia cosa ti fai dai con questo picciò ma piuttosto quando mi se leva la scarpa chi ora sono vediamoci che tardi è già sta venendo chi a momento sbarazzate tutti con le mutande a casa la picciò dalla che vede a chi da con le mutande a me ne va sbarazziamo 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 all'est 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 è così buono sogno pare spaventare passere no non è vero pare invece un picciuttetto ben pulito educato come giusto con le picciotte la tua età siano vado io no no vado io no vado io aspetta che ci voglio io state per tutte buone calma state per settare prego ecco qua oh quale onore baronetto tesisti in questa umile casa e sia il benvenuto si accomodi si accomodi si accomodi no 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 non è tutto 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 mio buonasera 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 ma chi dice baronetto neanche siamo onorati della sua visita s'accomodasse 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 ciao 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 Si accomodi, si accomodi, come sta la sua mamma? La mia mamma è una buona, una buona, una buona, la mia mamma. Lei va a scusare, baronetto, se trova che qualcosa andava in mezzo, ma che vuole la casa e mica e ne bisognava commirare. Ma che, che dice signora? Anzi, oh, vivemo, vivemo. Ora vivemo, ora vivemo, baronetto. Pide la sua sola, ora vivemo, baronetto. No, no, di, di. Vieni, 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 vieni. Ano di, 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 di scusso. Culo. 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 Aaaaahh, a direi che noi abbiamo aaaahh, ca ca ca, aaaahh, ca ca, aaaah, ca ca, aaaahh, ca ca ca, non uscire da questa circostanza. il destino a volte è crudele, ma in questo caso è stato provvidenziale. Prego, si accolta. Grazie. E neanche siamo sempre contenti che lei è casa da Siria perché lei è venere, vuol dire che ci deve essere un grosso amativo. Lusaccio. Lusaccio, Lusaccio. E' una cosa importante. E' una cosa importante. E' un aiuto. Che è venuto, vieni. Ed è qua. Minchia. Minchia. E' una cosa importante. Ma che dice? Ma lei si esprime benissimo. E' venuto per domandare la mano di angeli. Ecco. La mano? No, ma... Solo la mano? No! Ma se lei si pida la mano con tutto il pezzo... Ma che fai dice? Pepe, pepe, pepe... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Pepe, 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 pepe... 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 Eh, le luci. Piggialo il rasorio, la magia, piggialo il rasorio. Piggialo il rasorio. Piggialo, la magia, portalo qua. Dai! Cà, cà. Mettilo qua sopra, dai! Franca, versa un poco di questo rasorio, senza ristare da quando ho fatto lo contato. Eh, giù. Grazie, baronello, prego, si serva, prego. Sì. Baronello, chi sei, la buon'arma di mezzia, bello, eh? Ogni botta cance, una botta di tommo. No, no. Di la buon'armuzza di mezzia, questa. Brindiamo al fidanzamento, caro Giovanni. Che cagace, papà! Che cagace, mamà! Che cagace, mamà! Angio linda! Ma non è, non è pericoloso! Mi, 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 mi sono pepeee! Mi, 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 mi sono dit, po 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 po, te, stare! Ah, 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 ah. Giù linda un, una, lena, cocco, 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 E del resto, lo gusto del baronero è cosa risaputa. Dai, Ancelina, fatti mettere l'anello dal barone. Ma che fa, Ancelina? Mi priogno. Ehi, 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 ti timida, ti timida, ti timida. Bene, benissimo. Ah. Io penso che lei avrà informato i suoi genitori di questo fidanzamento. Sono contento di quello che... E, bene, e mi dicesse una cosa, allora, questo matrimonio quando? Barone, quando? Ah, un anno, un anno e mezzo. Un anno, un anno e mezzo. mi pare un po' cassai, baronese. Poi il tempo passa e lupiciriddu cresce. Io per la verità non intendevo dire questo, baronese, io intendo non intendevo dire che il tempo passa e lupiciriddu cresce. Qual è il bambino? Baronese, lo gradisci un'altra goccia di gasolio? Se lo bevesse, baronese, lo bevesse lei stessa, sempre chiede la buon'arma se lo bevesse. Beh, ci piace? Sì, sì. E mi dicesse una cosa, come lo chiametemi? E che chi? Lupiciriddu. Ancora no, 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 è vero, Angiolina. Sì, però, bisogna pensareci subito. Ma certo, chissà se lo potremmo chiamare Andrea, Ninuzzo, Filippo, con tutte queste belle nomi che ci sono, è giusto. In questo caso non nasce il film, film. Più ora facemola nascere, facemola nascere, e poi si ne parla. Vai qui, Lelluccio, vai qui qui… Vedi queste dolce, porta lei, porta… Bar… Ba… Baron… Baronetto… Vedi qua, Lello, vedi qua? Mangiatse un vero dolce? Il baronetto… Vedi,homme se lo mangia… no no grazie Giovanni Mascaluccia che cosa vuole Giovanni Mascaluccia buonasera forse sto disturbando ma vi devo parlare di un fatto che forse voi sapete già ma intanto si accomode non accettasse qualche dolcino un poco del rasorio ma mio che siete in pistino l'eldo si fice la cresima ma per la verità no no non si fice la cresima avanti che è così l'eluccio si fice la cresima e l'eldo si fice di parrino ma veramente beh veniamo al motivo di questa visita io vendevo a dare in giro perché già mi sto sentendo male e niente il baroneldo un malessere passeggero no Angelina è meglio che resti qua pure tu assendo lo discorso che farà il tuo padre insomma si può sapere che cosa è successo sono venuto per chiedere ufficialmente e dico ufficialmente la mano di sua figlia Angelina ecco la mano di mia figlia Angelina ma scusate ma mia figlia quanto mano ha uno ha detto no al baroneldo davvero eh come? davvero eh davvero eh ha detto la mano al baroneldo e il piccino che aspetta sua figlia di questo il baroneldo o lui sua figlia è incinta e io sono venuto per riparare volendola sposare ecco lei lo corre fa piglia l'acido fa piglia l'acido fa piglia l'acido baroneldo baroneldo lo tavolino baroneldo allo baroneldo ci appizzamo e come ci possiamo appizzare allo baroneldo 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 visto che è così non vedo che cosa ci sto a fare io qui mamma un chiacchio mamma vero eh Angelina Lello miracolo un chiacchio miracolo 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 è vero sono ritornato normale sono troppo felice e vi prometto che vi farò dare stimone alle vostre nozze ma che bello non che chiacchione apro lo stipo e piglio lo spicciupo solo spicciacchio lo stipo lo stipo e più sotto un piatto di figli una cotta c'era un piatto di figli una cotta ogni tanto mi impappino però che bello non che chiacchione grazie c'era una motore fa fai biscotto e minnega mia figlia biscotto e minnega allora la figlia biscotto e minnega mia nascendo biscotto e minnega ma io non ci stai capendo più niente meno male ma non ci stai capendo più niente mi avevo pigliato delle torse ma che so io me l'aspettava franca bene con mia fammi un po' di compagnia è mo' niente lo marito che hai bisogno di chiare un po' di compagnia è mo' niente lo marito e perciò tutti stavi maritando con lo baronetto chissue lo bene che me volie no io lo faccio per farti ingelosire però non me l'avessi mai maritato ma non me l'aspettava ma mai allora e allora il suo matrimonio sa va a fare subito intese? eeeh il signor sì ma prima ci vuole lo corso prematrimoniale che dura otto giorni chi? so che è il suo corso prematrimoniale niente per farti lo capire è una specie di catechismo ecco ecco vi ci accompagna al suo catechismo la mamma e come? la mamma le taritura che deve rintra su ma insomma a questo corso a sta specie di catechismo c'ha meglio il sole ho con la cura ma quale catechismo è catechismo? stavolta vi ci accompagna e al catechismo e io ci vedo pure un camonino allora camonino camonino a questo corso ok grazie a tutti Forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché, non ha senso per me. Ancora un grandissimo applauso a questi bravissimi attori, Padre Lavela, Salvatore Graffeo, l'esattore Enel e Salvatore Bascio, Angelina Lori Fontana, Giovanni Mascaluccia Antonino Luppino, Belluccio Peppe Fontana, il barone Spoto Sergio Signorello, Giovanni Spitaleri Peppe Indelicato, La moglie Mimma Morachella, il regista autore del testo Elio Indelicato, Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché, non ha senso per me. Ringraziamo poi per le scenografie Francesco Bascio e per la logistica Vito D'Antoni. Adesso la parola a Elio. Mi chiedono di fare l'inchino, come si fa l'inchino? Tutto insieme. Grazie, grazie ancora. Spero che vi siate divertiti per questa commedia che ha qualcosa di vero c'è, perché me l'ha raccontato un po' mio nonna, queste cose succedevano, succedevano, allora succedevano queste cose. Io sono contento perché si è coronato un sogno, abbassiamo la musica Puleo, si è coronato un sogno che è quello di poter recitare qua su questo palco con questa magnificenza che tutti ci invidiano. Veramente, se l'inunte, i nostri templi, questa sera siamo onorati di poter essere qui con tutti questi ragazzi che non sono ragazzi, qualcuno è meno ragazzo, ma sono tutti attori per passione, per diletto. Si è coronato anche un sogno della nostra prima attrice, Mimma Monachella, che desiderava recitare con il figlio stasera qua. Mimma Monachella è il suo figlio! Ecco. Bene. Per questo diceva che era bello questo picciotto dell'Enel, che è bello questo picciotto, tutta la mamma si miglia. Io alla fine, per concludere, vorrei ringraziare Elio Indelicato, l'Associazione Araba Fenice che ci ha dato la possibilità di condividere questo palco, di poter coniugare la bellezza di questo spettacolo, la comicità, ma poi alla fine, in fondo, anche il messaggio importante che vogliamo dare con quella che è la nostra attività e quelle che sono le nostre iniziative di Palma Vite. Quindi, in conclusione, vi ringraziamo tutti per seguirci sempre con affetto. Da parte mia concludo invitando tutte le persone che seguono Palma Vite per i prossimi eventi, ci trovate su Facebook, ci trovate sul sito. Abbiamo fatto un piccolo laboratorio, un progetto di cucito, un laboratorio di cucito secondo la tecnica del patchwork, che ha dato un risultato bellissimo. Abbiamo prodotto una coperta durante questi tre mesi di lavoro che adesso a settembre presenteremo alla cittadinanza, a tutte le persone che ci seguono, e quindi l'appuntamento è a settembre, ancora avanti con tutte le attività di Palma Vite. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie a Giuse, io ringrazio tutti i collaboratori della redazione di Castelvetrano News, perché questa commedia nasce all'interno di Castelvetrano News, dal sito, perché ci occupiamo di storie vere, di tradizioni popolari, e questo ne è questa sera un esempio. Grazie ancora, grazie a tutti voi. Dimmi quando, quando, quando l'anno, il giorno e l'ora in cui Forse tu mi bacerai ogni istante attenderai Fino a quando, quando, quando D'improvviso ti vedrò Sorridente accanto a me Se vuoi dirmi di sì Devi dirlo perché Non ha senso per me La mia vita senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciando mi dirai Non ci lasceremo mai Non ci lasceremo mai Tu devi dirla perché Devi dirla perché Non ha senso per me Non ha senso per me La mia vita senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E per me E per me La mia vita senza te